Questa cosa che è appena successo, un pensiero quasi astrale, quasi che arriva ai cieli, no? Ho pure switchato scena per far vedere anche la tua faccia mentre lo facevo. Stai laggando da morire. No, non dire le cose sbagliate. Ciao Alice, ciao Hank, ciao Artyom, ciao Morinix, che fugge subito, ciao anche Bigfoot. Siamo venuti ragazzi, come va? Sì, stasera. Mi sono levati i capelli sciolti? Se li tengo legati... Dado, andiamo su TeamSpeak. Dado? Mi sa che comincia a andare su TeamSpeak. Andiamo su TeamSpeak. Alza un pochino Dado. Eh ma tanto dobbiamo cambiare. Allora, torniamo subito. Scusate, scusate che intanto Discord è stupido e fa le cose stupide da Discord e TeamSpeak non si apre. Devo ricaricare TeamSpeak, aspetta un attimo. Grandi! Ma insomma, se parlassimo da qua? Guardiamo da qua, che cazzo se ne frega? Aspetta, però devo alzarti. Eh no, alzo. Sì, infatti. Eh, ditemi un po' com'è Dado. Ecco, ditemi. Dato è bassissimo. Ragazzi, ma che cazzo state vedendo? Aspetta, ah, ma vedete questo. Oh no, aspetta. Non si sente nulla ancora un po'. Aspetta. Aspetta un attimo che sono tutti sparpagliati. Tanto voi ditevi del... Ora come la volume, che è importante. Vai, parla un po'. Mettino a parlare. La 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 la. Evviva Cristo. La 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 la. Ok. Ok, perfetto. Facciamo un po' Dark Souls. Ah, non l'hai avviato? No, alzavo il volume. Ah, alzo. Adesso va bene, perfetto. No, 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 no si ricorda? Non lo so Marco io ero andato per i cazzi miei poi fuori live quindi dove devo andare? Che parte la faccia di Marco quanto allora devi dirmi dove stai io so al pisellino è solo l'altare del vincolo devi dirmi dove andare io devo leggere il nome del follow perché non me lo ricordo mi sa che tipo saggio di cristallo sa il cazzi comunque saggio di cristallo? tranquillo bravissimi bravissimi ragazzi oggi chiamo pochitti sì è vero siamo pochi pochi che vi succede? quasi quasi faccio pure io la gif eh figurati vai vai falla falla io ho salvato la gif sul telegramma quella dio che mi cago per la donazza allora niente c'è la schiavo la vita? sento parlare ma non sento il simbolo dato io in realtà sono in caricamento saggio di cristallo l'abbiamo già fatto spuntify comunque sì è una mezza sega ma ripeto spuntify magari a parte benvenuto bentornato bentornato sì 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 e oh mio amico ha avviato outlast 2 il buon tapide e non è spadoni no è tapide Marco è uscito per aumentare le views non credo funziona no Marco ragazzi ma che sta succedendo a Dark Souls è un caricamento infinito Marco anche i capezzoli sono pannabili lo so ma sto per dire sto per dire posso dire posso dire che il caricamento di Dark Souls è stranamente lungo mi sa che ti ha crashato Marco non verso i giardini i giardini di Farron assolutamente no il mio terrore l'accapriccio sì assolutamente sì allora comunque ciao Iro come va ciao Albertino Alberto dannato come stai come stai come stai allora riavvio Dark Souls che bello live su Rocket ragazzi live su Rocket l'ho ormai tanto ragazzi io vorrei rendere mi piace per dire il fatto vorrei venire in vocal ma poi rompo coglione ma guarda noi non stiamo in vocal stiamo su no infatti non funziona cioè non gli funziona lui di discord la sluggiziamo un pochettino sì quindi siamo su su whereby non venire perché scazzi tutto il layout Marco esatto volevo dire che ho appena finito questo succo di di orzo e luppolo anche io che mi ha quasi fatto vomitare perché era aperto da qualche giorno laddo cancello non mancate come faccio io sì sì no è una cosa senza marca sì sì no era della coppia è artigianale 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 stupidi ok mi ha fatto praticamente quasi vomitare ogni source era un conato perché era aperto da era aperto da qualche giorno perché l'acqua è una marca sì sì tipo l'acqua panna l'acqua panna che buona l'acqua san benedetto a me l'acqua panna mi piace è buonissimo l'acqua panna è troppo cicciosa dado cantami una ninna nanna del sindaco cosa nina nanna nina nanna alberto clemente tieni qua dammi proprio un bel bacino sul piechino del pisellino la mia nonna la mia nonna nanna la mia nonna nanni 95 mi stavo cantando la ninna nanna allora se la sciacca ho frizzato per se sgaffa se cantare di nome era lasciata la live nanna 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 questo airo a chi lo do lo darò al mio becchino che lo tenda un bel bacino ciao isa ciao smettetelo scusa subito ciao isa come stai come stai buonasera ragazzi non capisco dark souls oggi perché ci mette questi anni a trovare il mio pipo ragazzi l'hai di rocket league ciao a tutti tutti mentalisti il gioco è esploso l'ho appena fatto airu ecco l'ho partita adesso marco sì che primo io ma da drone ecco quello che bello il comando mentalista e sì l'ho fatto oggi sì un culo comunque non dobbiamo andare ai giardini di farron bensì dobbiamo andare nella zona prima di non mi ricordo come si chiama e è vero è vero è vero dopo il comando faciolini mi hai portato anche mentalista esatto ai giardini del pionta cosa marco quanto c'hai vorrei saperlo anche io ma in caricamento infinito d'artholes mentalista sì ma mi avete tutti confuso e basta quindi vi odio oggi non era un point mi dispiace Alice Rossi Alice ho già cazziato chi di dover scusa ma farò ammettere figurati voi non potete sapere perché stiamo ridendo io e Dado ma praticamente qualcuno qualcuno di nome Alberto Alberto ha appena aggiunto una parola oh una parola a termini bannati esatto mi ha fatto molto ridere marco è sbagliato hai piatto d'artholes lo di screen simulator ciao amando raga l'avete già fatto la cattedrale della profondità no ci dobbiamo andare adesso ciao meglio lui no io lo sto portando dove siamo noi si è mai ma io non ragazzi non so cosa dirvi marco stream marco un album di foto vediamo vediamo perché magari adesso si riprende il vestito da papa lo so bellissimo il vestito ce l'ho esatto l'eventuale live così non è perché non mi fidi cos'è che fai esatto un eventuale live ma perché dà tanti problemi ultimamente ragazzi comunque il minuto di caricamento è fluidissimo guardate che roba certo 10 minuti di attesa sembrano quasi caricamenti di bloodborne nei tempi d'oro però comunque facciamo così wow ragazzi l'avete visto il bestone eh sì è uscito best off ragazzi l'altro ieri non è vero ieri potete ottenere anche la qualità scalabile wow penso a te io l'ho visto molto bello grazie Alberto ci sei anche tu che scrivi villa sesso va bene quindi non lo so io sto in caricamento tu stai in caricamento io sto a grattarmi i coglioni io scimitarra cosa ma farete mai delle serate in multiplayer su Dark Souls non penso proprio perché io sono veramente tanto scarso no e poi non ha senso nessuno di noi ha mai giocato troppo a parte Marco nessuno di noi aveva giocato Dark Souls più Luca che gli altri non avrebbe non avrebbe alcun senso no ma poi la cosa è che nessuno di noi si fa stiamo lavorando su build o cose varie lo giochiamo veramente molto a cazzetto lo giochiamo è basta faccio pesante dardo normale cosa cosa impazzito impazzito cestus fa tipo i nomi delle armi come le mosse degli anime ragazzi non so chi si è preso a Dark Souls oggi io sono ancora in caricamento da due minuti ragazzi lo spadone dell'anima il cannone dell'anima di Junior potete l'anima top seconda è vero è abbastanza figa signori benvenuti in questa live di Dark Souls non so ma io sto morito a ridere per quale motivo stai morando a ridere lui ride lui piace ridere le schermate ah luce ecco perché erano le schermate d'attesa freccia dell'anima suprema non lo so non lo so va bene non scriverlo così pazzo uomo sclerato vabbè facciamo mettere niente la musica te lo fai in sotto metto tipo ciao di die ciao di die anima delle profondità ragazzi tutti insieme Marco streamo io magari è troppo pesante streamare da qua aspetta ci sono è un processore che fa ridere ci sono è un album di foto ciao di die voi vedete un album fotografico vero di frame Marco sì che ragazzi rifresciate arriviamo subito arriviamo arriviamo subito a breve a breve